Ben ritrovati, Lo sai che? è la prima campagna di comunicazione con cui l'assessorato alle pari opportunità di Grotta Mare scende in campo per contrastare la violenza di genere. Le parole della consigliera alle politiche giovanili Martina Sciarroni. Allora, Lo sai che? è una campagna di informazione e comunicazione fortemente voluta da me e dall'assessore Monica Pomili. Una campagna che si sviluppa su due canali, uno attraverso i cartelloni 70-100 fissi in tutta la città e uno attraverso i social. Questi manifesti contengono delle informazioni legate al campo legale e al campo del supporto territoriale da parte dei centri antiviolenza. Inoltre poi ci sposteremo anche sul web dove saranno presenti, oltre a questi manifesti, anche opere di artisti a supporto della sensibilizzazione sul tema. Una campagna che ha scelto di essere comunicativa attraverso i colori e il lettering anche verso i giovani perché secondo noi questo è un tema che va sviluppato fin da piccoli ed è importante che fin da piccolissime generazioni imparino a non sentirsi sole e a conoscere tutta la rete di supporto nel nostro territorio. Vi invito a seguire anche tutte le altre manifestazioni che vengono fatte all'interno del Comune grazie alla consulta alle pari opportunità del Comune Grattamare. Il calendario si chiama Sguardi di Donne, pubblicheremo poi prossimamente le dati, ma intanto vi do qualche nome, Silvia Casiglio, una comunità LGBTQ plus e emergency sulle donne afghane.